Non l'ho nemmeno letto quel libro, ce l'ho da 30 anni e sta là, ma io verso i classici ho un grande problema, non so perché, un po' perché sono scritti Corpo 6, quindi anche Dostoiese, sono tutte cose che mi fanno paura, un po' perché arriverà il momento per leggerli, credo che l'unico che ho letto, che non ho neanche finito perché ho capito come andava a finire era Don Chisciotti Ma a voi di tutto questo? No, mi chiedo, no, è una ricetta, uno si chiede No, 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 sinceramente, non so che mi fa lo strano No, assolutamente, diciamo, a loro non lo so, ma a me proprio non me ne è vero Ma non di quello che dicevi, in generale proprio, a me non mi fremo un cazzo di niente Cioè l'unica cosa che mi smuove è mio figlio, il resto non mi frega niente scrivere quel cazzo di niente Cioè, ma non per cattiveria, proprio che mi sono stupato Qui c'è un manifesto in generale di attore, ragazzi Non te ne dico, non te ne dico Lo sai, anche le cifre No, me l'hai fatto lì, io lo sapevo No, 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 no Scusa, sai che l'ho detto io? No, tu l'hai pensato No, lo l'ho detto io No, du l'ha pensato